Il curatore e anche il nostro parroco che si appresta a festeggiare i 90 anni, Monsignore Spinello, che ha trovato le forze del resto del dramaturgo. Cominciamo con la rivelazione di quest'opera, che è l'omaggio di un artista locale, il professor Giovanni Aquino, al giudice Livatino. E' un ceramista molto affermato, che ha avvertito la sensibilità di mettere a disposizione l'arte sua e ha realizzato questo pannello che la signora dottoressa Spinello, il nostro prefetto, la dottoressa Vicoli, il vicario del prefetto, vorrà adesso rivelare a tutti noi, tagliando con una... Allora, prendete le forbici. Il momento è solenne. E' il bello della diretta, si deve fare qualche cosa. Eh? Vabbè che abbiamo la diretta... Allora... Allora... Allora, dov'è farlo, perché non c'è qualcuno, mi chiede in mario! Questa è l'opera del professore Aquino, che servirà a ricordare a tutti questa grande testimonianza terrena del giudice Livatino. Quindi adesso possiamo dare via i lavori e vi dovrete adesso sentire i nostri ragazzi che sono impegnati. Ah, c'è anche la rapide, sì, sì. Prego, ci togliamo il pensiero. Qui basta uno strappo, dottoressa. Qui basta uno strappo. Allora, ci accomodiamo. In questi giorni un fortissimo gruppo di ragazzi, bambini della nostra comunità montefretanese è impegnato nei cosiddetti campi estivi. e le operatrici di questi campi estivi hanno avvertito la bellezza di poter partecipare i ragazzi che canteranno una canzone e reciteranno alcune parole in linea con quanto stiamo solennizzando questa sera. Quindi penso che vogliono iniziare con una canzone che carica di significato attinenti alla vita del giudice Livatino. non ci avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Prego. Ehi. 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 Non c'è l'inizio di un bambino Non c'è dato niente, non c'è dato niente Perché tutto va a volte, le vostre si perde Non c'è dato niente, 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 le vostre si perde Sono consapevole che tutto qui non torna la felicità volava Non c'è dato niente, le vostre si perde Non c'è dato niente, le vostre si perde nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, è stato ucciso da Grigento dalla Stidda, un'organizzazione mafiosa. Il 21 settembre 1990, durante la sua carriera, aveva confiscato numerosi beni alla mafia, aveva indagato su quella che sarà poi definita la Dangedopoli siciliana. Il suo nome si aggiunge alla lunga lista dei tanti uomini e donne che hanno perso la vita nel tentativo di contrastare le mafie. Viene ricordato con l'appellativo Il Giudice Ragazzino, titolo del film dedicandoli da Alessandro Girobilante nel 1994, in seguito alle dichiarazioni dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossica, che così definì giovani magistrati impegnati nella lotta alle mafie. Con ben altre parole lo ricordi invece Papa Giovanni Paolo II, martirio della giustizia indirettamente dalla faide. Dal 1992 il Vescovo di Agrigento ha infatti avviato le procedure per la beatificazione di Livatino, mentre l'Arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, ha firmato nel 2011 il decreto per l'avvio del processo di beatificazione. Lo stesso Arcivescovo ha dichiarato che la mafia non è solo quella delle stragi, ma è anche quella del silenzio, delle ingiustizie, delle raccomandazioni, delle scorciatoie ai danni dei più debili. Anche questa mafia uccide. Il mio nome è Rosario, sono una persona come tante altre e vivo in un paese vicino a Agrigento, Canicattin. Negli anni probabilmente, ascoltando mio padre chiederselo, mi sono sempre domandato anche io se fossi siciliano o italiano. Vivere in un'isola a volte ti fa sentire, isolato come se non facessi parte della stessa nazione. Le distanze sono immense, ma non tra Sicilia e il resto d'Italia. No, no. E chi c'è mai pensato a raggiungere l'altra parte d'Italia? Ogni anno, poco più, ci promettono un ponte sullo stretto. Un ponte sullo stretto. Per creare finalmente un collegamento. Ma puntualmente la maggior parte delle promesse affondano prima del ponte. No, intendo dire le distanze tra le città siciliane. Per dire di più, con il traghetto non posso viaggiare perché soffro il mal di mare. Per non parlare poi della mia paura di volare. Insomma, perché finché questo ponte non sarà costruito, non ci vado dall'altra parte. E d'altro canto, a me piace Canicattin. Spesso, con papà e mamma, andavamo ad Agrigento a trovare nonna Rosalia, la mamma di papà. Se mi chiamo Rosario è per suo volere imperativo. Rosario era il nome del mio povero nonno, che non ho mai conosciuto, ma che fu un santo. Come mi ripeteva mia nonna, che è rimasta sempre fedele al suo santissimo Rosario. Con la sua benedizione e col nonno che veglia su di me, non avrei mai dovuto avere problemi di alcun tipo e mi sono sempre sentito protetto. Per la legalità si intende avere atteggiamenti, azioni, pensieri e parole conformi alle leggi. Significa soprattutto essere capaci di azioni rispettose, delle regole, essere attivi nella partecipazione alla vita sociale e civile, essere responsabili nei confronti della comunità, esercitando sempre e comunque la propria libertà. La pace è una naturale conseguenza della legalità. Per educare la legalità e garantire un futuro di pace, bisogna puntare al pieno sviluppo della personalità del bambino, affinché sia capace di accettare e rispettare le regole, cooperare e collaborare con i suoi amici, rispettare gli altri e la diversità. I bambini con buona attività sociale tengono ad assumere atteggiamenti pacifici, rispettosi dell'altro e delle regole. Per educare alla legalità bisogna puntare agli atteggiamenti e alle persone, alle personalità disposizioni, educando i bambini a crescere e rispettare sulle regole sociali e rispettarle. Convivere felicemente con gli altri ed essere disposti alla collaborazione percependo la diversità come un valore aggiunto. Agire e reagire e pensare nel rispetto delle persone e delle loro idee. Legalità e giustizia, amicizia, libertà, pari diritti, diritto a scelta propria, sono tesori per l'uomo e gioie per l'umanità. Se non ci fosse la legalità, nessuno avrebbe giustizia nel mondo, ci sarebbe il caos. Abbiamo capito che la legalità è un bene di tutti, per noi la legalità è l'equilibrio che tiene in piedi il mondo. Vivere in modo onesto, rispettando le diversità, il modo di vivere e le culture di altre persone, rispettando le regole che ci fanno vivere bene insieme. Questo secondo noi è la legalità. La legalità è fare cose giuste, non uccidere, non infrangere le regole. La legalità è importante, necessaria e utile per la vita di tutti i giorni, deve essere applicata da quiunque in tutto il mondo. Rinforzare l'antimafia per sconfiggere l'illegalità. La legalità aiuta i più deboli e aiuta a vivere più sereni. Se ognuno fa la sua parte, possiamo combattere l'illegalità. Per rispettare le regole e gli altri. Per rispettare la legalità, non servono tanti sforzi, ma l'aiuto di tutti, aiutateci a... Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quando siamo stati credenti, ma credibili, lo salio li va a dire. Grazie! La mafia contro tutti, tutti contro la mafia. Perché se combattiamo contro la mafia, verrà sconfitta. Bravo! Nelle recite dei piccoli, le defaianze diventano momenti di altissima poesia. Sono stati bravissimi, poi è stato bello il pensiero dell'educatrice, degli educatori. È stato un momento molto autentico. Allora, io direi però di fare un applauso all'autore di questo pannello, che è generosamente il professore Aquino. Dove sta il professore Aquino? Non c'è il professore Aquino? Non c'è il professore Aquino? Ti puoi togliere anche la mascherina, perché l'arte va rivelata. Ecco, un applauso al professore. Io vorrei ringraziare il sindaco, evidentemente, che faccio i miei complimenti per come conduce l'amministrazione. E quindi un applauso al professore Polidoro, che mi ha dato la possibilità di realizzare quest'opera con un altissimo significato, civile, stock. E così, questa tua opera diventa un himno alla legalità in questa piazza di una piccola frazione, che è una frazione però civilissima, che si è sempre distinta per uno spirito di aggregazione veramente unico nel contesto dell'intera comunità del paese. Grazie, grazie professore. Allora, desidero anche fare un passaggio che è doveroso per chi non ha le... Cosa c'è scritto qui? C'è in sintesi a Rosario Livatino, eroico magistrato 1952-1990, vittima della delinquenza organizzata, fedele fino al sacrificio estremo alle ragioni della legalità. Il comune di Montefredene, sindaco Ciro Aquino, auspice il circolo a Limata, luglio 2022. Ed ora, diamo la parola ai convenuti, il sindaco per il saluto innanzitutto. Buonasera a tutti, benvenuti a Montefredene, un saluto e un ringraziamento al dottore Airoma. Il dottore mi ha accolto nel suo ufficio e abbiamo concordato la data di questo appuntamento. Con una semplicità estrema, ma con un cuore carico di emozioni. Non mi sembrava vero che potevamo celebrare questa manifestazione ufficiale alla sua presenza. E quindi un ringraziamento dal profondo del cuore. Poi un ringraziamento affittuoso, lo rivolgo alla persona del vice prefetto, per la presenza, perché la presenza dello Stato, del governo qui. Un ringraziamento particolare a Don Enrico, che nonostante in questi giorni ha avuto qualche problema fisico importante, che ci ha testato qualche preoccupazione, ha voluto presenziare questa manifestazione. Don Enrico è il parroco di questa comunità e quindi un ringraziamento davvero importante. Un ringraziamento importante lo devo agli amici del circolo socioculturale Alimata, a Marcoseto, a tutti gli amici per l'impegno. Lo devo a questa frazione dove io sono nato. Lo devo alla mia gente che ha voluto consegnarmi questo messaggio, perché mi ha consegnato un messaggio che io poi ho voluto tradurre con una richiesta di autorizzazione per l'intitorezione di questa piazza. Saluto i ragazzi e i bambini del campo estivo, gli animatori, per il loro impegno, per la loro passione, per questi giorni che hanno voluto distrarre anche dai momenti di gioco per costruire questa bella iniziativa. Grazie, grazie davvero. E infine un devoroso ringraziamento all'artista, al professore Giovanni Aquino, mio professore al liceo, che ha realizzato questa bellissima opera. Un grazie particolare. E un grazie anche a un amico, una persona generosa, una persona che si impegna gratuitamente, a Gianni Uriano, che ci ha aiutato nella apposizione di queste tarpe. Grazie a tutti i miei collaboratori, i consiglieri comunali, che insieme a me stiamo portando avanti questa attività. La legalità è al primo posto, la legalità è una missione. Io lo ripeto sempre negli uffici comunali, lo ripeto anche in questa sera, la politica deve dare le indicazioni. La politica non si occupa di gestione, la politica deve dare idee, deve dare contenuti, deve dare passione. E la passione che ci mettiamo nella nostra attività la porteremo avanti, anche con iniziative simboliche. Nelle scuole, perché proponeremo un corso alle legalità, che ci tengo moltissimo. Ho lavorato in questi primi mesi per recuperare una biblioteca comunale. Quella biblioteca comunale sarà un luogo di cultura, anche alle legalità, perché sono custoditi test importanti, che all'inizio di settembre, dopo la prima decada di settembre, presenteremo alla nostra comunità, che sarà un patrimonio importante, perché la biblioteca di decrescienza è una biblioteca censita dalla Corte di Cassazione, dal Senato della Repubblica. Metteremo a disposizione questo materiale importantissimo su cui si potrà studiare, si potrà approfondire, si potrà tirare fuori anche delle tesi di laurea. Io non mi dilungo sulla figura del giudice Livadino che commemoriamo questa sera. Non lo faccio io, non mi competa a me. Competerà magistralmente alla lezione che terrà il procuratore. Il mio vuole essere un saluto, vuole essere soprattutto un grazie a ognuno di voi dal profondo del cuore. Non sono presenti questa sera per giustificati motivi l'assessore regionale, il prefetto Morcone, perché ha avuto un impegnamento all'ultimo minuto, mi ha scritto una lettera che poi metteremo agli atti di questa bella serata. Non è presente ovviamente il sottosegretario Sibile, perché come sapete c'è una crisi di governo in atto e quindi è Roma per i lavori parlamentari, ma mi hanno promesso che verranno appena apriremo la biblioteca in una nuova iniziativa che terremo. e voglio concludere la serata ascoltando le parole significative del procuratore e un saluto della dottoressa da me e poi ci sarà un piccolo e simpatico rinfresco per tutti. Grazie, grazie, grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio il sindaco, ringrazio tutti voi per questo invito a questa splendida manifestazione e anche a nome del prefetto, oltre naturalmente che a nome mio. Proprio qualche parola sul giudice del quale sicuramente parlerà più diffusamente e con maggior conoscenza il procuratore. Devo dire che la vita, l'esempio di Rosario Olivatino secondo me sono compendiati in una parte dell'articolo 54 dove si dice della Costituzione dove si dice che i pubblici funzionari devono adempiere il proprio dovere con discipline d'onore. Questo è l'esempio che ci lascia Rosario Olivatino, appunto come dicevano i ragazzi, il giudice è il più conosciuto come giudice ragazzino che morì a neanche 38 anni nel 1990. Ci lascia, io credo, un messaggio importante che è quello dell'umiltà. L'umiltà è soprattutto della consapevolezza dei valori che devono improntare l'attività non solo naturalmente dei magistrati ma anche di ognuno che si trova a gestire la cosa pubblica, di ogni pubblico funzionario. Ecco l'umiltà, l'umiltà che secondo il giudice eleva e non sottopone deve connotare l'attività dei pubblici ufficiali. L'umiltà che ti pone al di sopra e non al di sotto dell'interlocutore e poi fare il proprio dovere, fare il proprio dovere, costi quel che costi, con dedizione, passione, competenza, senza mai scendere a compromisso. Era, io credo, insomma, lo diranno meglio di me poi dopo, un uomo semplice, un uomo semplice, un uomo trasparente anche nella vita comune e diciamo che non si è mai fatto condizionare dall'ambiente in cui viveva. E poi mi ha colpito della sua vita il messaggio che ha lasciato in ordine all'attività che svolgeva, all'importanza che gli dava al processo decisionale. Diceva che ogni pubblico ufficiale, ogni incaricato di una pubblica funzione deve nella decisione conferire molta importanza alla motivazione, una motivazione che deve essere personale e non deve essere condizionata dall'appartenenza a schieramenti politici o a consorterie, sebbene anche quello, come dire, l'appartenenza appunto a schieramenti politici è una cosa normale per ogni individuo. Ecco, devo dire, questo secondo me era il giudice Rosario Livatino, quindi io spero che oggi questo diventi un luogo della memoria, un luogo, potrei dire, dell'anima per ciascuno di noi e per ciascuno dei ragazzi soprattutto che sono qua, un luogo in cui appunto ha molta importanza il principio del rispetto delle leggi ma soprattutto del rispetto della dignità personale e questo possa essere un messaggio permanente, un messaggio di questo luogo a quelli che ci sono e a quelli che verranno. Vi ringrazio. Prendo solo la parola per un saluto agli amici che c'è un rappresentanza degli ex lavoratori della Nuovo Legno colgo l'occasione per salutarli e per rinnovare un'attenzione delle istituzioni qui presenti perché queste famiglie vivono un dramma occupazionale enorme, sono tre anni ormai che sono fuori dal mercato del lavoro quindi colgo l'occasione pubblica per chiedere al governo anche di farsi carico, al prefetto, di convocare un nuovo tavolo perché queste famiglie che qualcuno è qui presente purtroppo stanno scontando un dramma che dura da tre anni. è finita la Naspi e sono in attesa di soluzioni. Anche questo è un tema serio che dobbiamo farcene carico, io per quanto possibile sto mettendo in croce tutti gli organi istituzionali competenti, però purtroppo per evitare il malaffare, per evitare, come dire, la devianza dobbiamo impegnarci anche sui temi del lavoro. Questo lo dico come messaggio che faccio mio sono lì, sono lì, sono lì, dopo se lo faccio così. È un saluto anche, non mi vorrà, però mi è sfuggito, purtroppo sono tantissimo emozionato, anche il comandante e i carabinieri qui presenti perché per il lavoro che fanno, in particolare alla collaborazione che offre qui sul territorio il comandante della stazione, il comandante Giancarlo Guarino per l'impegno, per l'attività costante e anche di confronto che abbiamo per condurre al meglio la comunità. Un saluto alla dottoressa Landolfi Lucilla, la nostra comandante della Polizia Municipale. Chiedo scusa, grazie. Fare un torto ai bambini è quasi un delitto, quindi c'è una filastrocca in sospeso che vogliamo assolutamente far recitare. Si tratta di qualche minuto. Filastrocca della illegalità di Monia Gaeta Questa piazza crede nell'amicizia, nell'onestà e nella giustizia. Da oggi porterà il nome di un magistrato che lottò contro ogni tipo di reato. Combatté la corruzione con sacrificio e dedizione. Credeva nell'uguaglianza e coltivava la speranza di paesi e città con un bel senso di umanità, di rispetto e accoglienza, senza furbizie e delinguenza. Voleva che il mondo stringesse un patto, di un progresso lontano dal ricatto, lontano dalla droga e dall'usura, dalle minacce e dalla paura. Ma la mafia non ama la libertà, ci vuole schiavi privi di volontà. Così uccisero il magistrato, il suo corpo finì in un campo abbandonato. Ora la sua memoria è vive melodiosa, diventa un raggio e illumina ogni cosa. Ci dice che l'amore richiede tanto impegno e solo chi lo pratica è un cittadino degno. L'autrice di questa filastrocca è una raffinata poetessa che percorre le avanguardie letterarie che si è calata nel linguaggio dei bambini dando una manifestazione di disponibilità. Quindi la poetessa Gaeta è quella signora lì che è la poetessa affermata. Ha usato il linguaggio dell'olio. Prima di passare la parola al giudice di Latina che è stato chiamato in causa il giudice di Crescienza che abbiamo un magistrato importantissimo qui presente vorrei dire che tra le figure che illustrano questo paese signor procuratore c'è un magistrato che ha avuto un ruolo importantissimo si chiamava Berardino di Crescienza ed è nato in una masseria qua sotto. Il papà era sindaco di Montefredini e ha percorso tutti i gradi della carriera fino tanto giudicante che requirente come dite voi con linguaggio elegante e tecnico e quindi ha fatto due cose importanti era un letterato raffinatissimo ha scritto ha fondato una rivista giuridica ma soprattutto è stato nominato Zamberletti e Antelittera dal governo dell'epoca per coordinare i lavori di soccorso nella Marsica una zona di Avezzano per essere qualbruzzese dove lui ha ricevuto i complimenti del governo perché ha saputo fare in tre mesi cose egregie ma la cosa più importante non è questa quando Trieste e tutta la provincia passò allo Stato italiano il governo il ministro della giustizia dell'epoca ha individuato nel giudice De Crescenzo il magistrato che doveva recarsi a Trieste e in sei mesi insegnare a quei magistrati il rito italiano del diritto e nel comune e nella studio del sindaco c'è una fotografia bellissima dove c'è questo giudice attorniato dai giudici triestini e di tutta la provincia con le loro firme e con un attestato entusiastico di stima ci tenevo a dirlo perché è una delle nelle piccole comunità come le nostre e questa è una gloria di un certo di un certo rilievo quindi a questo punto un atto dovuto due parole al nostro parroco e vedete questo questo elegante prelato che indossa la tenuta da Monsignore non è un parroco qualsiasi Don Enrico è un parroco trattino fondatore ha costruito la sua chiesa c'è una fotografia bellissima che lo vede sui tetti eh Don Enrico ricordate quindi perché tra qualche giorno compie 90 anni bel applauso ed è ancora felicemente in servizio noi volevamo appunto tributargli ancora un altro applauso ma più calore vediamo se credo che mi scuserete per le mie condizioni di salute non perfette ma questo è stato il motivo per cui non sono riuscito ad essere assente a questa magnifica manifestazione una manifestazione che arricchisce questa piccola piazzetta vivacizzata dalla presenza di persone giovani e meno che cercano di stare insieme creando quell'amicizia che è necessaria specialmente per evitare quelle situazioni che abbiamo notato anche in questo giudice rosario levandini la ricchezza di questa frazione può essere adesso aumentata dalla targa che abbiamo posta e la gente che passa cerca non solo di domandarsi chi era questo rosario levandino che cosa ha fatto e che cosa ci dice dice ancora oggi a tutti noi l'esempio di quei valori ai quali qualche volta forse abbiamo di vendicato auguriamo che questa iniziativa possa portare i suoi benefici frutti e ringraziando ancora da parte mia tutti i presenti noi auguriamo che questa manifestazione possa essere per tutti noi un'occasione di migliorare i nostri doveri come vedete la sicurezza espressiva del nostro parro a 90 anni lo fa penso al doc G di Taurasi che col tempo diventa più prezioso e più costoso adesso è il momento culminante di tutta la serata perché il giudice procuratore ai Roma oltre che essere il nostro procuratore capo è il vice presidente nazionale dell'associazione di Vatino abbiamo avuto la fortuna quindi di avere dall'alto luce su questa grande figura bene buonasera a tutti io ringrazio il sindaco che ha avuto vita facile perché propormi Rosario Livatino per me ovviamente non c'è la discussione alcuna la figura di cui sono innamorato vi ringrazio per essere qui presenti quest'oggi solo qualche riflessione insieme con voi non senza aver ringraziato anche prima i ragazzi sono stati veramente bravi la prima riflessione parte da questa dalla targa e da questa stupenda opera artistica vedete io spesso mi chiedo quando mi trovo a passeggiare per le strade di un paese magari che non conosco quale storia si cieli dietro i nomi di quelle persone illustri alle quali vengono intitolate spesso le strade e le piazze quindi avete fatto certamente un'opera meritevole non soltanto nell'aver dedicato questa piazza a Rosario Livatino ma anche nell'aver prodotto la sua effigie la sua foto il suo volto in modo tale che tutti quanti passando per questa piazza vedano e sappiano chi è stato Rosario Livatino perché non è scontato che si sappia chi è stato Rosario Livatino ripeto sprezzantemente definito da alcuni come giudice ragazzino ma poi ironia della sorte questa definizione in qualche modo anche contribuito a diffondere la sua fame e la sua memoria e non è neanche un caso e veramente mi compiaccio di questo che a lui sia stata dedicata una piazza che è solitamente luogo di incontro quindi un luogo popolato dove è difficile rimanere soli perché in realtà Rosario Livatino è rimasto solo e assieme con lui mi piace ricordare questa sera un'altra enorme figura di uomo di cristiano e di magistrato che è quella di Paolo Borsellino del quale ieri abbiamo ricordato il trentennale del suo assassino Paolo che ho personalmente conosciuto col quale ho anche avuto frequentazione e rapporto che è appunto è stato lasciato solo come fu lasciato solo anche Rosario Livatino allora cosa dobbiamo ricordare se vogliamo evitare che queste occasioni finiscano con l'essere l'esibizione di una bolsa retorica dobbiamo fare appunto un'operazione di ricordo ma che significa ricordare cioè tenere in corde cioè tenere nel nostro cuore non è soltanto un fatto intellettuale non è soltanto un fatto di ragione ma dobbiamo in qualche modo applicare il nostro cuore cioè portare dentro di noi l'esempio di persone che non hanno esitato a sacrificare la propria stessa vita in nome di valori e principi che sono il fondamento di ogni consorzio civile vedete tutti quanti noi siamo stati abituati ad apprezzare il sacrificio per la libertà forse l'abbiamo in qualche modo anche dimenticato quanti martiri abbiamo conosciuto durante i conflitti mondiali e il tragico periodo che seguì ai conflitti mondiali siamo anche abituati a giustamente riconoscere il tributo di sangue che le forze dell'ordine le forze di polizia spesso danno per difendere la sicurezza nostra però in qualche modo è più difficile diciamo riconnettere la portata del martirio e sacrificio a chi si batte per la giustizia ma in realtà come per la libertà e come per la sicurezza anche la giustizia senza giustizia non vi sarebbe un consorzio civile degno dell'uomo perché noi non possiamo vivere senza giustizia i primi ragazzi hanno raccontato a loro modo quello che pensano della giustizia anche quella filastrocca che è veramente bella però dico spesso quando vado nelle scuole che i ragazzi più piccoli sono e più sono metafisici e cioè sono abituati a non fare molte elucubrazioni cioè per loro ciò che è giusto e ciò che non è giusto siamo noi che col tempo ingrigiamo non soltanto i capelli del nostro capo ma anche la distinzione che dovrebbe essere sempre netta chiara e decisa tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto perché non esistono gradazioni intermedie non esiste il compromesso su questo una cosa o è giusta o non è giusta e noi sappiamo e noi lo portiamo dentro il nostro cuore appunto questa distinzione la conosciamo e allora fa parte di queste persone appunto come lo sa Livatino essere segno del fatto che su questo non si fanno sconti che su questo non c'è compromesso vorrei anche dire un'altra parola su Rosario Livatino non sulla sua vita non vi voglio annoiare però leggetevi quello che è stato scritto sul suo conto però mi piace ricordare una cosa e mi ricollego a quello che si diceva prima del giudice di crescenza pensate che Rosario Livatino è il primo beato giudice il primo attenzione il primo perché i magistrati avevano finora lo dico finora perché mi auguro che lo diventi Rosario Livatino santivo come protettore che non era un magistrato Rosario Livatino è il primo giudice santo il che devo dire anche egoisticamente mi fa piacere perché significa che anche facendo questo mestiere si può andare in paradiso e non è una cosa da poco ma certamente ecco dice un'altra cosa ancora più importante e cioè che appunto sacrificare la prima vita per la giustizia è una cosa gradita a Dio tant'è che lui diceva che rendere giustizia pensate così scriveva è dedizione di sé a Dio è preghiera quindi capite quale valore e quale significato avesse per lui fare questo che è un mestiere bellissimo guardate a tutti quanti noi spesso capita nella nostra vita di fare ogni tanto la cosa giusta come l'orologio lotto che per due volte a giorno diceva quel tale segna allora esatta quello che è difficile è essere giusto cioè acquisire l'abitudine l'abito a fare la cosa giusta il rosario non ha soltanto fatto giustizia è stato giusto è stato un uomo giusto è stato un giudice giusto perché questo è quello che Dio voleva da lui e lui ha risposto a questa chiamata questo è stato il rosario di Patino un uomo del sud permettetemi di dire un uomo del sud nato in una cittadina non so se ci siete mai stati io nella mia personale indagine sull'abitino mi sono recato Canicattin c'è anche un modo di dire per definire un posto veramente sperduto e dimenticato a dire degli uomini si dice ecco da Canicattin perfetto Canicattin è nato a Canicattin nato in una famiglia normale ordinaria il papà è impiegato in resattoria la mamma un insegnante la sua vita in un paesino davvero dell'entroterra Siculo e badate viveva in un edificio al cui piano superiore abitava sapete chi? il boss del paese ecco quindi questo per darvi l'idea di dove e come ha vissuto il rosario di Patino quindi poteva voltarsi all'altra parte poteva scegliere di fare un altro mestiere poteva anche scegliere di fare il magistrato magari fare il civile un posto comodo no lui ha fatto il magistrato del penale prima il pubblico ministero e poi il giudice prima qualcuno lo ricordava occupandosi anche dei misure di prevenzione fra i primi in Italia cioè aggredendo i patrimoni dei mafiosi cosa che dà molto fastidio e facendo tutto questo anche nei confronti dei mafiosi della sua città anche nei confronti di quel mafioso che abitava al piano di sopra in realtà questo può essere stata anche la sua condanna a morte e molti gli hanno detto di lasciar perdere sono arrivate prima le lusinghe come si fa in questi casi si cerca una corruzione sottile strisciante poi le minacce esplicite aperte ma lui non si è tirato in dito perché questo era quello che voleva il Dio da lui questo è quello che lui doveva la sua gente e non poteva tirarsi indietro fino all'ultimo istante fino a quando arrivò un rapporto informativo della questura che diceva che era in preparazione agguato nei suoi confronti egli come tutti i giorni senza la scorta si mise a bordo della sua Ford Fiesta un po' vecchiotta quello era Maranto e andò in ufficio come tutte le mattine dopo aver salutato i suoi genitori e lì incontrò i suoi sicari il sindaco ha voluto far preparare delle targhe perché possiamo ricordarci di questo momento irripetibile al procuratore alla dottoressa Ficco comandante Guarino si avvicini al brillante comandante della nostra stazione dei caribinieri a don Enrico Spiniello Monsignor 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 Enrico Spiniello al prezioso Virgilio della Misericordia che attende la nostra sicurezza e infine al professor Giovanni Aquino che ci ha regalato questa splendida opera io vi libero tra un minuto volevo dire agli autorevoli ospiti ma anche a tutti noi che allo studio da parte del sindaco e dei suoi collaboratori una iniziativa che penso sia molto importante e molto più grossa del nostro paese nel campo della legalità dal prossimo anno il comune di Montefredene si farà promotore di una un ciclo di lezioni col ministero della pubblica istruzione per i docenti perché vengono a Montefredene a studiare e a prendere il relativo diploma insomma per una specializzazione nella didattica della legalità nelle nostre scuole questo accade nel castello di Caracciolo ma idealmente è come se accadesse nella piazza di Elipone grazie un applauso lo merita il professore Polidoro per l'impegno e per la passione per il grande convicuto ringrazio a tutti adesso un piccolo rinfresco applauso parla e per la passione il nostro canale e per la passione che vengare l'impegno lo buono c'è ipf risoe Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.